Ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche, rischio di trasmissione del covid abbattuto tra il 40 e l'80% è il risultato dello studio condotto per la Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Ume, investiti dalla Regione 9 milioni. Covid nelle Marche continuano l'aumento dei contagi ma restano bassi ricoveri. Il nuovo focolaio in una RSA sulla quarta dose dei vaccini, l'assessore Saltamartini, possibile un richiamo in autunno come per l'influenza. Lavorare di meno parità di stipendio si può, a dirlo la FIOMCGL dopo il rinnovo del contratto integrativo sottoscritto nel cantiere CRN di Ancona. Si passa 35 ore settimanali, retribuite per 40. Manca solo il via libera di Interporto Marche perché va da buon fine l'insediamento di Amazon nel territorio di Iesi ad annunciarlo il comune e poi si darà il via all'iter per la realizzazione del grande hub logistico da oltre 60.000 metri quadri. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche. Vi ricordo che siamo in onda anche streaming sul portale, sulla app e sulla pagina Facebook di ETV. In apertura la ventilazione meccanica controllata nelle scuole, nelle aule scolastiche, un investimento di 9 milioni da parte della Regione che stando a uno studio condotto in collaborazione con la Fondazione Ume ridurrebbe il rischio di trasmissione Covid del 40,80%. Allora facciamo il punto con il nostro primo servizio. Le Marche hanno voluto essere apripista nei confronti di chi proponeva banchi a rotelle, invece potevamo contenere il Covid e soprattutto potevamo contenere la didattica a distanza che tanti danni hanno fatto all'educazione dei nostri ragazzi e anche agli aspetti psicologici dei nostri ragazzi con la ventilazione meccanica controllata. L'utilizzo della ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche, a seconda della portata di metri cubi per ora del macchinario, abbatte il rischio di trasmissione di Covid tra il 40 e l'80%. È il risultato dello studio condotto per la Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Ume presieduta da Luca Ricolfi. Il monitoraggio è avvenuto su circa 300 aule delle 500 in cui è installato un impianto, circa il 3% del totale, comparato con le altre classi nelle quali non c'è ventilazione meccanica. Ciò per stimare l'efficacia della ventilazione considerando i cluster Covid verificati. Si va da un miglioramento delle condizioni di salubrità delle aule di due volte superiore a quelle non dotate di ventilazione meccanica controllata fino a ben sei volte e voi capite che avere sei volte in meno di contagiati a causa della diffusione del Covid, minore in questo caso nelle aule dotate di ventilazione meccanica controllata, significa aumentare la salute dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini. Ci sono altri due stralci di finanziamenti a disposizione degli altri edifici scolastici. Abbiamo cercato di mettere in campo più misure e più risorse possibili per attuare questa areazione meccanica, nonché anche la misura dei sanificatori, perché ricordiamoci che gli interventi sono stati due, per un totale di 12 milioni di euro, quindi 9 milioni per l'areazione meccanica, 3 milioni per l'acquisto invece di sanificatori, che sono due misure entrambe valide per il contrasto del diffondersi del virus. Noi andremo a coprire circa il 25% degli studenti e delle classi marchigiani con i finanziamenti stabiliti dalla giunta regionale delle Marche, ma chiediamo al governo un investimento in campo nazionale di circa 2 miliardi, l'1% del piano nazionale di ripresa e resilienza. E a proposito invece delle quarte dosi di vaccino, l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Ossalta Martini, chiarisce che è possibile un richiamo in autunno come per l'influenza. Probabilmente ci dovremo preparare la somministrazione della quarta dose per il mese di ottobre, novembre, dicembre, richiamo annuale come avviene per tutte le altre influenze come è previsto, appunto come sta sostanzialmente scrivendo, stanno scrivendo gli organi del Ministero della Sanità. Un richiamo annuale come quello contro l'influenza, somministrazione in autunno per allenare il sistema immunitario in vista dell'inverno. Il Covid è tra noi lo testimonia alla fine della discesa del numero di casi e dell'incidenza, non si abbassa dunque la guardia e ci si prepara. Le Marche lo faranno senza rivoluzionare l'attuale sistema antipandemia. Stanno aumentando il numero dei positivi, ma con sintomi quali il naso che cola, un po' di febbre e così via, però questi sintomi non ci portano al pronto soccorso, quindi noi non smantelliamo il sistema, il tema centrale è sempre quello. Covid rispetto alle altre influenze ha dimostrato che per essere curata servivano i posti letto in ospedale e quindi diciamo che questa avvertenza e questa precauzione deve essere sempre valutata con ragionevolezza. Quindi la questione della carenza di personale sanitario. Ci sono almeno una trentina di contratti in scadenza il 31 marzo nelle strutture ospedaliere. Saliranno a 120 a fine giugno e poi i pochi medici specializzati. Non c'è sanità che tenga se non abbiamo medici, infermieri e personale specializzato. I corsi di specializzazione vanno deserti. Nel bando per medici del 118, dove c'è una carenza di oltre 70 medici, le domande sono 18, ma non possiamo sapere se i 18 che frequenteranno il corso poi saliranno su un'ambulanza. Restiamo in tema Covid. Pochi ricoverati soprattutto in terapia intensiva, ma un numero ancora sostanzioso di nuovi positivi al Covid giornalieri. Questo è appunto il quadro della regione Marche. Allora vediamo in particolare cosa raccontano i dati delle ultime 24 ore. Purtroppo aumentano di due ricoverati negli ospedali marchigiani, per un totale di 220 degenti, di cui però solo 6 nelle terapie intensive. Sono invece 33 le persone in attesa nei pronto soccorso, mentre purtroppo nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi decessi, per un totale di vittime da inizio pandemia, che sale a 3.677. Continua, dicevamo, la fase di crescita del tasso cumulativo di incidenza, arrivato a 1.178,82 su 100.000 abitanti, con 3.513 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. In particolare la provincia di Ancona totalizza 1.1 contagiati, seguita da Macerata con 695, Pesero Urbino 585, Ascoli Piceno 582, Fermo 525, mentre sono 125 i casi da fuori regione. Sono inoltre i 3.513 nuovi positivi, sono il 44,1% dei tamponi effettuati. Tra i contagi inoltre si segnala anche un nuovo focolaio Covid nella casa di riposo di Sansebrino Marche, che complessivamente accoglie un'ottantina di persone. Dai tamponi antigenici sono emersi in particolare 13 ospiti positivi e 5 operatori, sempre chiaramente positivi. La direttrice della struttura però riferisce di una situazione fortunatamente tranquilla con alcune persone anziane che registrano qualche linea di febbre, ma buona saturazione. E ora passiamo alla cronaca. Brutto incidente poco dopo le 13.30 sull'autostrada a 14 in direzione sud tra i caselli di Fano e di Marotta-Mondolfo. Ad avere la peggio una donna che con la sua auto avrebbe tamponato un camion. È stata trasportata nell'ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona, sul posto anche la polizia autostradale, per ricostruire la dinamica dell'incidente. E adesso parliamo di lavoro, lavorare di meno, parità di stipendio, si può a dirlo. È la FIOM CGL dopo il rinnovo del contratto integrativo sottoscritto nel cantiere CRN di Ancona. Vediamo il servizio. Più tempo libero da passare con la famiglia, con i figli e un po' meno tempo da dedicare al lavoro. Visto che la maggior parte delle ore della nostra vita le passiamo dentro le fabbriche, io penso che questo sia un risultato molto importante. E il nostro impegno sarà quello di tentare di allargare il più possibile il traguardo raggiunto in CRN e anche in altri stabilimenti, in altre aziende metalmeccaniche delle Marche e non solo. È chiaro l'obiettivo della FIOM CGL delle Marche, dimostrare che si può lavorare di meno guadagnando lo stesso, ovvero 35 ore settimanali retribuite per 40. L'esito del rinnovo del contratto integrativo sottoscritto nel cantiere CRN di Ancona, parte del gruppo Ferretti, azienda chiave nella costruzione di mega yacht, si punta quindi a dimostrare con un messaggio chiaro al mondo industriale che si, si può. L'accordo prevede un premio di risultato fino a 4.600 euro l'anno e l'istituzione di una banca ore solidale. Per lo storico cantiere anconetano, 250 lavoratori impiegati, 5 imbarcazioni in costruzione e 3 in ordine, l'accordo, dicono i lavoratori, non giunge per caso, ma dopo anni di dialogo, seppure nelle difficoltà economiche del settore. Abbiamo passato dei bei periodi di crisi anche noi, qualche cassa integrazione, però non ci ha fatto mai mancare lo stipendio, non ci ha fatto mai mancare niente, anche perché c'è una storia sindacale dietro. I venti di guerra intanto arrivano anche ad Ancona, con un settore a forte presenza di armatori russi e scarsità globale di materie prime. Il gruppo però è solido. Ci diceva l'azienda che anche loro, per quanto riguarda il materiale elettronico, iniziano ad avere dei ritardi sulle lamiere e sull'acciaio, però tutto sommato riescono ancora a tenere vuota la situazione di crisi rispetto anche alle materie prime che devono arrivare in cantiere. E proprio sul tema delle difficoltà registrate in questo periodo dalle imprese, la Regione è in arrivo un pacchetto di sostegni per le aziende in crisi. Sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, interventi per compensare le perdite di fatturato e maggiori costi delle materie prime, compresi quelli petroliferi sostenuti dal settore della pesca, agevolazioni per favorire la diversificazione dei mercati di esportazione e di approvvigionamento, aiuti per riorganizzare la produzione e la vendita dei prodotti. Sono le principali linee di intervento del pacchetto di misure economiche destinati alle imprese marchigiane, colpite dalla crisi generata dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Gli interventi della Giunta Quaroli, a sostegno della liquidità delle PMI, favoriranno l'accesso al credito con la partecipazione degli istituti di credito, della Camera di Commercio e del sistema Confidi. Verrà ridotto e abbattuto in particolare il costo del conto interessi sui prestiti bancari e consentita la copertura per la garanzia prestata dai confidi. Le imprese marchigiane che hanno subito le maggiori perdite di fatturato a causa della guerra in atto beneficeranno di sostegni economici dedicati. Sono principalmente interessate quelle dei settori calzature e moda per l'impossibilità di esportare o ricevere il pagamento della merce già spedita. E quelle della pesca per l'aggravio dei costi energetici. Questo intervento sarà complementare a quelli messi in atto dal governo per rispondere appieno alle esigenze specifiche del sistema imprenditoriale marchigiano. Sono misure che trovano spazi limitati nel nostro bilancio ma in questo momento è il contributo che possiamo dare. Stiamo aspettando anche di comprendere la strategia del governo nazionale e della Unione Europea e poi cercheremo di valutare ulteriormente in seguito eventuali nuove misure. Noi abbiamo la fortuna di avere una classe imprenditoriale che basandosi molto sul lavoro e sul sacrificio riesce sempre a superare le difficoltà. Ma dall'altra parte devo ammettere che le difficoltà a cui sono dovuti andare incontro negli ultimi anni sono difficoltà che purtroppo prescindono dalle capacità individuali e imprenditoriali perché oggettivamente ci sono delle variabili che sono esterne e che hanno condizionato moltissimo la capacità di produrre e di competere di ognuno di loro. Sono 128 le richieste di uscite volontarie sui 150 concordati nell'ambito dell'accordo elica di Fabriano con incentivi a 75 mila euro di cui si potrà usufruire fino a fine mese. Ad oggi 43 persone hanno già lasciato l'azienda, 35 lo faranno entro marzo, i restanti 30 entro settembre il prossimo. Questo è il dato fondamentale dell'incontro fra il management della multinazionale di Fabriano e il coordinamento unitario sindacale. L'azienda, spiegano le parti sociali, ha confermato lo sviluppo del piano industriale in linea con il programma previsto con lo spostamento delle linee 1 e 4 in Polonia. Resta la possibilità di poter aderire al programma di reindustrializzazione con un partner del territorio con cui si sta definendo la cessione dello stabilimento di Cerreto Desi. C'è comunque il rischio del fermo però produttivo, dicono le sigle sindacali, tra fine aprile e tutto il mese di maggio, attraverso il ricorso della cassa integrazione ordinaria a causa delle difficoltà del reperimento delle materie prime e della componentistica per la difficile situazione geopolitica. Il passo numero uno dell'autosufficienza alimentare è nella ricerca dei terreni incolti anche nelle marche. L'obiettivo è quello della produzione di 75 milioni di quintali in più di mais per gli allevamenti, grano duro per la pasta e grano tenero per la panificazione. Con le condizioni che oggi abbiamo non riusciamo ad essere completamente autosufficienti su tutte le filiere produttive, quindi su tutti i comparti, ma sicuramente abbiamo dei grandissimi margini di miglioramento e proprio per questo iniziamo in maniera molto semplice a rendere produttivi l'oltre milione di ettari che oggi sono rimasti in realtà incolti e che invece potrebbero aumentare la capacità produttiva del nostro paese. Il passo numero uno dell'ambiziosa autosufficienza alimentare, conseguenza dei venti di guerra, è nella ricerca di terreni incolti. L'obiettivo, a fronte degli ettari recuperati, è nella produzione che ne deriverebbe 75 milioni di quintali in più di mais per gli allevamenti, grano duro per la pasta e grano tenero per la panificazione, con contratti di filiera per ridurre la dipendenza dall'estero. C'è di più il biometano per produrre i fertilizzanti, divenuti oro agricolo a seguito del blocco delle esportazioni e quindi il minore impatto ambientale grazie al fotovoltaico. La direzione otarchica in agricoltura permetterebbe, nel lungo periodo oggi è impossibile, di combattere il vero nemico. In atto c'è anche una fortissima speculazione su quella che è la disponibilità, ad esempio, di granaglie destinati e destinabili all'utilizzo zootecnico e su questo, come col diretti, stiamo chiaramente intervenendo per mitigare quelli che sono oggi gli effetti speculativi, ma soprattutto stiamo lavorando, ma ormai già da qualche anno, per rendere il nostro territorio, il nostro paese, sempre più autosufficiente da un punto di vista soprattutto alimentare e quindi produttivo. Manca solo il via libera di Interporto Marche perché va da buon fine l'insediamento di Amazon nel territorio di Iesi con un grande hub logistico da oltre 60.000 metri quadrati. Ad annunciarlo è il comune di Iesi. Nei giorni scorsi il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'esclusione della procedura di via alla valutazione di impatto ambientale per l'insediamento della piattaforma e-commerce in zona Interporto. Ed è di oggi la notizia che anche la provincia ha dato il nulla osta alla pratica. A questo punto il comune di Iesi è dunque in attesa di poter finalmente adottare la variante, provvedimento che potrà essere portato in giunta solo con il consenso di tutti i soggetti interessati. Si ritiene, spiega l'amministrazione, che anche questo passaggio di Interporto sia di imminente e definitiva conclusione. 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema dello spreco e dell'uso consapevole di questa importante risorsa. E Viva Servizi lancia un concorso fotografico sul tema rivolto alle scuole. Dal 1993, il 22 marzo, si celebra la giornata mondiale dell'acqua, il cui obiettivo, oltre alla sensibilizzazione sul tema dello spreco, è quello di sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 6, acqua e servizi igienici per tutti, entro il 2030. Tema principe di questa edizione 2022, le acque sotterranee. Come suggerisce il claim del World Water Day, le acque sotterranee possono essere fuori di vista, ma non devono essere fuori di testa. Un'altra giornata mondiale dell'acqua, un'altra opportunità per ricordare gli oltre 2 miliardi di persone nella Terra che tutti i giorni ne sperimentano la scarsità. Quindi per diventare sempre più consapevoli di quanto l'acqua sia un bene prezioso e quindi sempre più consapevoli del fatto che l'acqua non va assolutamente sprecata. Oggi per l'occasione è una festa, perché siamo tornati a riospitare i ragazzi delle scuole elementari e medie e quindi per noi è una grande gioia veramente. Abbiamo organizzato diverse opportunità di riflessione per loro di gioco, di divertimento e di lavoro insieme all'associazione Fosforo di Senigallia con cui da anni stiamo collaborando e insieme anche all'Università Politecnica delle Marche, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. Viva Servizi, oltre ai consueti laboratori e momenti di incontro per le scuole, ha per l'occasione lanciato un contest fotografico dal titolo Una foto per l'acqua, una foto per la vita. Le scuole potranno partecipare a questo concorso, inviare le foto sul sito didattica Aviva e abbiamo deciso che il premio per quest'anno, siccome viviamo veramente tempi particolari, sarà un'esperienza di solidarietà e condivisione. Per conto delle classi vincitrici, Viva Servizi devolverà alla Carita di Senigallia un piccolo contributo, una piccola donazione a sostegno dei bisogni di tanti profughi ucraini che stiamo ospitando nel territorio che serviamo. Il comune di San Severino Marche conferirà la cittadinanza onoraria al campione argentino Lionel Messi, stella del Paris Saint Germain, sette volte pallone d'oro. La notizia è stata annunciata dal comune stesso con un post su Facebook in cui si ricostruiscono le radici dello sportivo nella cittadina marchigiana per parte di madre. La famiglia Messi è inoltre origine italiana, il Trisavolo emigrò da Recanati nel 1883 e la città appunto nel 2019 inviò al calciatore la tessera elettorale per votare le amministrative e l'amministrazione di San Severino Marche in occasione della prossima riunione del Consiglio Comunale conferirà al calciatore argentino la cittadinanza onoraria. Invece nel frattempo sono stati avviati i contatti per permettere al sindaco con la consegna dell'onoreficenza al campione Messi. Questa era la nostra ultima notizia, io mi fermo qua, vi ricordo che potete trovare tutte le news aggiornate direttamente sui social, sul portale e sull'app di ATV Marche. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci! Grazie a tutti!